Il Comune di Cremona va incontro alle imprese colpite dalla crisi soltanto attraverso i fondi trasferiti dal Governo. È l'accusa della minoranza in Consiglio Comunale che interroga la Giunta sulla recente decisione di destinare 380 mila euro del fondo Covid alla sistemazione degli impianti di aereazione e riscaldamento dei camerini del Teatro Ponchielli per favorirne la ripartenza. Già a fine aprile, nell'approvazione del consultivo 2020, era stata bocciata la mozione che chiedeva la destinazione dei fondi residui, circa 600 mila euro, a famiglie e imprese colpite dalla crisi. Oggi anche le risorse statali, denunciano i consiglieri, rimangono inutilizzate. È stata sottratta una competenza che sarebbe del Consiglio Comunale, ha destinato 380 mila euro per il rifacimento dell'area condizionata, credo, insomma dei lavori che riguardano il Ponchielli, con la motivazione che questi lavori sono urgenti per permettere una riapertura dello stesso in base alle varie ordinanze ministeriali sulla normativa Covid per l'apertura appunto del Ponchielli nella stagione autunno-inverno. Ora, se davvero ci fosse stata l'urgenza, questi fondi avrebbero dovuto essere destinati da subito al Ponchielli, già nella variazione che è stata fatta a fine aprile, sulla quale noi avevamo chiesto invece che questi fondi fossero destinati a famiglie e imprese. Quindi questi lavori erano stati previsti nel piano delle opere pubbliche finanziati con alienazioni. Improvvisamente viene quindi cambiata la fonte di finanziamento e vengono utilizzati questi fondi Covid. Secondo noi è una modalità dal punto di vista sia della forma, quindi l'assunzione con motivazione d'urgenza da parte della Giunta di una competenza del Consiglio, sia per quanto riguarda le motivazioni che appunto reputano urgenti questi lavori e quindi noi chiederemo chiarimenti in merito sia nella Commissione sia nel Consiglio Comunale.